È un evento sicuramente importante, al quale abbiamo dato molto volentieri l'attenzione del Dipartimento di Studi Umanistici e dell'intera Università, perché questo incontro vuole sottolineare il ruolo che è parallelamente sociale e giuridico, ma anche culturale e educativo della mediazione nel nostro vivere quotidiano. L'Università può specificamente intervenire nei processi culturali e interculturali proprio per formare le nuove generazioni ad un dialogo, un dialogo che sappia evitare le forme di conflitto, le forme di sopraffazione che tanto spesso vediamo proprio oggi così attentamente praticate. Grazie a tutti.